Il Ministero dello Sviluppo Economico oggi ha messo online un portale dedicato alle imprese per richiedere gli incentivi finanziati proprio dal Mise. Questo che state vedendo è il sito internet. Internet in questione permette di facilitare la conoscenza, la promozione degli incentivi proprio finanziati dal Mise. Ne parliamo oggi con Emanuele Cigliuti dell'Ufficio Stampa della Comunicazione del Mise. Buongiorno, ben trovato. Buon pomeriggio a lei e buona festa alla Repubblica a tutti. Cigliuti, in questo il Ministero dello Sviluppo Economico realizzando questo portale segue una linea ben precisa, quella di alleggerire la burocrazia, incrementare la trasparenza e anche il meccanismo di comunicazione con i cittadini e le imprese per facilitare la conoscenza di tutti quegli incentivi che poi provengono proprio dalle realtà governative. Esatto. Il portale incentivi.gov.it vuole proprio essere un portale dedicato alle imprese, ai professionisti e alle amministrazioni. Ci sono tutti gli incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico, è possibile navigarli in modo semplice e molto intuitivo. Ci sono quattro tipologie di navigazione nel sito. C'è addirittura dei profili che possono agevolare, quindi dei percorsi guidati. Ci sono una ricerca per parole chiave, c'è una ricerca per macro-categorie, ad esempio start-up, innovazione, digitalizzazione. O altrimenti c'è tutto il catalogo a disposizione con dei filtri che aiutano certamente la navigazione. Ecco Cigliuti, in questo, lo stesso Giorgetti, adesso noi dobbiamo rendere più facile la vita alle imprese, ai cittadini. Dobbiamo cercare di aiutarli nell'intercettare gli incentivi che ci sono, soprattutto in un periodo come questo, dove la crisi economica da un lato, le difficoltà anche nel mondo del lavoro, rendono difficile la vita per gli stessi imprenditori. Certo, il Ministro Giorgetti ha accelerato molto la messa online di incentivi.gov.it, proprio con l'obiettivo di far conoscere, di promuovere e semplificare la ricerca degli incentivi a chi vuole realizzare un sogno, a chi vuole realizzare un'idea di una vita. E questo è veramente l'importanza di questo sito, che ovviamente è la punta di un iceberg, perché dietro c'è un lavoro importantissimo del Ministero, della direzione, di tutti i partner, perché non c'è soltanto il momento di scelta dell'incentivo, ma c'è anche l'accompagnamento, la fase di rendicontazione, c'è tutto un lavoro incredibile dietro questo sito, che oggi è online, ma ha un lavoro dietro di mesi e ne avrà sempre in futuro. Ecco, io Cigluti la ringrazio per essere stato con noi, anche perché è necessario far conoscere questi strumenti, strumenti soprattutto a chi ci ascolta per facilitare poi la possibilità di intercettare incentivi come questo. Grazie ancora a Emanuele Cigluti per essere stato con noi. Adesso torniamo a parlare.